A Chille Variati ha presentato oggi a Palazzo Trissino il progetto del primo stralcio del primo tronco che porterà al completamento della tangenziale di Vicenza. Il sindaco appena tornato dall'incontro romano con i tecnici dell'ANAS ha messo sul tavolo le specifiche sulla gara d'appalto per la costruzione della variante alla Pasubio che congiungerà Viale del Sole e Costa Bissara. L'opera del costo di circa 90 milioni di euro, metà dei quali destinati a spese di esproprio e costi tecnici, andrà in gara con una base d'asta di 45,9 milioni di euro. Si tratta di una gara d'appalto che tiene conto di molte specifiche, ha sottolineato Variati, e quindi non solo dell'offerta più vantaggiosa. Ad esempio dovranno essere dichiarate in anticipo le opere che il vincitore darà in subappalto, che non devono essere superiori al 30% del totale dei lavori. Più di 50 aziende hanno già manifestato interesse alla gara d'appalto, in cui il termine di presentazione delle offerte scade il 23 settembre 2015, mentre il 28 settembre ci sarà la prima seduta pubblica dell'ANAS. Il tempo per arrivare all'aggiudicazione, ha aggiunto il sindaco di Vicenza, dipende sia da quante ditte presentano l'offerta, ma soprattutto dall'attenzione alle offerte anomale, cioè quelle offerte che hanno prezzi troppo bassi che bisogna chiarire, con analisi ditta per ditta. Nelle previsioni l'assegnazione dovrebbe avvenire prima di Natale e a quel punto ci sono 90 giorni per la presentazione del progetto esecutivo e 720 giorni di tempo massimo per la realizzazione dell'opera.